I primi secondi dell'inglese vero sono fondamentali. Quando incontrerai una persona o parlerai inglese, le prime parole che dici fanno la differenza. Iniziamo dai saluti iniziali di quando arrivi, mai quando vai via. In inglese quando arrivi si dice hello, hi, hello, hi. Mi raccomando, l'errore più comune che si fa in questi casi è non pronunciare la H all'inizio, quindi aspirala bene e prova insieme a me. Hello, hi. Ascolta il video per vedere alcuni esempi. Hello, so hello from my 96-year-old grandma. Hello, Ohio. Hello, Ohio. I love you back. Hello. As someone who runs a venue. Hello, everyone. Welcome to the National Gallery. Come hai visto la H, la H è pronunciata molto bene. Hello, hi. Seconda parola, seconda frase che dici quando saluti dopo hello, hi è how are you? How are you? E a differenza di quello che si pensa quando si studia l'inglese, how are you? In prima battuta, vedi il numero uno sulla destra, in prima battuta il how are you non è una vera e propria domanda. Spesso e volentieri è semplicemente un modo diverso per dire hello. Quindi al how are you ti troverai spesso che potranno anche risponderti o how are you o con hello oppure non risponderti affatto. Pratica insieme a me la pronuncia, è importantissima anche qui la H iniziale how are you e non how are you, ma how are you. Prova how are you e rispondi how are you. Guarda un video per farti un'idea. trovi alcuni link e ti darò, la tecnica per andare a vedere i video su YouTube e andare a cercare esattamente tutte le parole e le frasi che vuoi ascoltare in inglese vero nel foglio, nel PDF legato alla lezione. Andiamo al secondo passo, quindi nel primo passo How are you? non è una domanda ma è semplicemente un'espressione di accoglienza come hai visto nel video. Se voglio veramente chiedere o se qualcuno mi sta veramente chiedendo come sto oggi, quindi How are you today? ovviamente aggiungerai il today al How are you, quindi How are you today? How are you today? E la risposta, mi dispiace dirtelo e distruggere questo luogo comune che ha infestato tutte le scuole di lingua e di inglese e scuole pubbliche d'Italia nei millenni, che non si risponde I'm fine, thanks. Prova a vedere nei video cosa risponde e poi te lo dico nella slide successiva. La mia domanda numero uno è come sei oggi? I'm, I'm very well, am I allowed to ask questions back? Yeah How are you today? Thank you, I'm very well, how are you? I'm good, I'm looking forward to your session this evening. Hello How are you today, darling? I'm good, it's low humidity, I like that. Right Frizz control, yes Come avrei potuto ascoltare, nessuno dice I'm fine, thanks, al how are you today, ma in realtà in seconda battuta, quindi how are you today, si risponde I'm good, I'm well, I'm very well, I'm great, alcuni addirittura ha detto I'm great, quindi ci sono varie opzioni, ma noi impariamo uno o due standard in modo da avere l'automatismo per percorrere questi primi secondi di incontro con qualcuno che parla inglese alla grande in modo automatico e in modo perfetto. Una piccola nota sul I'm fine oppure I'm ok, in inglese I'm fine oppure I'm ok, senza I'm fine, thanks, ma semplicemente I'm fine o I'm ok, in realtà indica una condizione media, mediocre, non indica sto bene, ma indica sto bene, sto bene, come per dire non sto male. In realtà viene usato poi I'm ok, I'm fine più che altro per quando, insomma, vieni da un periodo in cui hai faticato molto oppure sei stato male e quindi dici ok, adesso I'm fine, adesso sto bene, sto bene in relazione al periodo precedente dove stavo male, ma se invece voglio rispondere sto bene, I'm good, I'm well, è la risposta corretta. Andiamo a concludere questa sessione con altri due modi per dire how are you che ti potrebbero capitare e tu magari non dovrai utilizzare perché utilizzerai how are you come automatismo in modo che non dovrai pensare a quello che dire in prima battuta, ma how you doing, quindi how are you doing, che in realtà è how you doing, che vuol dire come stai facendo, nel senso come sta andando, come stai facendo, how you doing, ma in realtà non è una domanda diversa da how are you, la risposta è sempre I'm good, I'm well. Oppure la seconda, la terza opzione anzi è how is it going, come sta andando, che si pronuncia how's it going, mi raccomando anche qui l'h pronunciata molto bene, molto forte, how's it going, how's it going, che vuol dire sempre come un how are you, e quindi how's it going, oh I'm good, I'm well, how's it going, in prima battuta anche queste domande non sono vere e proprie domande, in seconda battuta possono essere domande vere e proprie, ma lo capirai nel contesto, se uno ti guarda negli occhi e ti chiede how are you doing today, oppure how are you today, oppure how's it going, e te lo dice guardando negli occhi, ovviamente te lo sta chiedendo, se te lo dice di sfuggita mentre vi state incrociando per strada o arriva in una sala e ti guarda velocemente, how are you, how you doing, how's it going, sono semplicemente espressioni per dire hello. Ultima cosa, quando vado via non confondere mai il how are you, hello, hi con i saluti finali, perché quando vado via non sbaglio mai, dico sempre bye bye, see you, bye bye, see you, see you later, see you next time, queste sono tutte le opzioni, l'opzione più facile e più concreta da usare sia in ambienti formali che informali è bye bye, bye bye and see you next lesson, ci vediamo alla prossima lezione.